Le 17 più importanti regioni del mondo hanno accettato l'invito di Regione Lombardia per tre giorni di lavoro in cui confrontarsi sui temi che costituiscono le nostre eccellenze. Parleremo di economia, parleremo di sanità, parleremo di scambi tra ricercatori del lavoro delle nostre università. La regione Lombardia è un nome conosciuto nel mondo, capace di attrarre altri paesi importanti e le regioni più dinamiche. Questo in un momento di difficoltà economica come questo è particolarmente significativo. In altri termini siamo orgogliosi del fatto che il nome Lombardia, il nome Italia attragga nel mondo tanti a venire a confrontarsi con noi e a lavorare con noi. Questa è la nostra seconda partecipazione nel forum di regione mondiale. Ci vediamo come una regione di città competitiva, venendo da Sud-Africa ma per essere un porto all'Africa. Ci sono molti competizioni ma anche molti espertivi che stiamo raggiungendo da essere parte di queste sessioni. Sono molto contento di essere qui questi giorni. Aspetto di imparare tantissime cose, conoscere tante altre leader politiche di tutto il mondo per arrivare a consensi e lavorare insieme. Le più importanti regioni del mondo che fanno rete significano maggiori servizi per i propri cittadini, più opportunità nel mondo per i nostri studenti, per i nostri lavoratori, per le nostre imprese perché siamo regioni protagoniste e vogliamo aiutare la crescita e lo sviluppo dei nostri paesi e del mondo intero.